siamo pronti per cominciare allora. Buongiorno a tutti. Marco. Io sono Marco. Sonia. Marco Cipriani. Ciao, vi salutiamo dalla Francia in realtà. Siamo nel sito P5 del CERN. Il CERN, voi lo sapete già, è questo laboratorio internazionale che ha dei siti alla parte principale in Svizzera, ma in realtà poi si stende anche attraverso quella che chiamiamo la Francia vicina. Noi siamo nel punto P5 dove abbiamo l'esperimento CMS. Marco, vuoi introdurti, come si dice in inglese, vuoi presentarti? Perché no, molto volentieri. Ma dunque, allora, per di me cosa posso dire? Io sono un ricercatore, adesso con un contratto qui al CERN, sono stato studente a Roma, alla Sapienza, ho fatto il dottorato lì, ho continuato anche con un paio d'anni di post-dottorato. e ho sempre collaborato con l'esperimento CMS. Sono membro di CMS praticamente dalla laurea magistrale. Quindi fedele a CMS. Assolutamente sì, e finora ancora non mi sono stancato. Cioè, è un esperimento fantastico, così come del resto anche tutti gli altri che sono qui al CERN. Ora CMS, come stavo dicendo loro prima, la visione trasversale è questa che si vede alle nostre spalle. Purtroppo non potremo andare a vedere il vero esperimento per il fatto che la caverna è chiusa, perché siamo già ripartiti con alcune delle attività. Magari poi daremo qualche dettaglio ulteriore in seguito. Sì, certo. Però ecco, questa è una cosa da sottolineare. Sostanzialmente l'acceleratore ha ripreso a funzionare in questo mese. Nelle ultime settimane abbiamo iniziato ad accendere un po' i nostri rivelatori, a fare dei primi test. E dopo comunque due anni e più di stop, tutto funziona, sembra funzionare. Tutto ancora funziona perfettamente. Siamo molto contenti e speriamo di continuare così. Io invece mi chiamo Sonia Natale. È un caso, ma veniamo tutti e due dalla stessa università. Veniamo da Roma con, diciamo, tempistiche diverse. Io sono diversamente giovane da lui, diciamo così. Sono arrivata prima. Ho studiato all'Università della Sapienza, dove ho preso lì anche la mia laurea. All'epoca era vecchio ordinamento, quindi si chiamava la laurea vecchio ordinamento quadriennale. Sono arrivata qui al CERN per seguire un corso sugli acceleratori organizzato dal CERN, un corso esterno, diciamo così, che non aveva a che fare con quello che stavo facendo in università. In realtà, nello stesso periodo, avevo preso l'argomento della mia tesi, che per motivi totalmente sconnessi da questa mia scelta di fare questo corso, analizzava i dati di un esperimento che si trovava comunque qui al CERN. Quindi, di fatto, quando sono arrivata qui, mi sono ritrovata a seguire il corso nello stesso tempo a lavorare per la mia tesi. In realtà, questa è stata una cosa, una coincidenza bellissima, perché mi ha permesso di restare anche dopo il corso, proprio per continuare a lavorare nella mia tesi. Di fatto, poi non mi sono più mossa, non sono più tornata a Roma. Ho passato un anno a Losanna, l'equivalente del Politecnico di Milano, di Torino, per dire, dove c'è la scuola Politecnica. E poi dopo ho scelto di lavorare per il mio dottorato di ricerca all'Università di Ginevra in un esperimento che è sempre di particelle, quindi di fisica delle particelle elementari, ma che è installato sulla stazione spaziale. Quindi, di fatto, di fatto, AMS, di cui non voglio adesso fare pubblicità, eccetera, però io so che nello stesso Festival della Scienza, il 30, ci sarà una conferenza che potrete seguire o in streaming, oppure il Palazzo Ducale, mi sembra che sia, non so, andare di persona, dove c'è il professor Battiston, che è stato, diciamo, vice capo dell'esperimento all'epoca, e il capo dell'esperimento che stiamo in streaming, quindi ho fatto anche pubblicità AMS. Comunque, brevemente, mi occupo, mi piace tanto la comunicazione, ritengo che sia un dovere per chi lavora in questo campo di appassionare, spiegare quello che stiamo facendo. Come ha detto Marco, ci si appassiona e non si lascia più, probabilmente. Se vorremmo farvi passare questa cosa, e quindi, di fatto, poi dopo CMS, sì, perché piace anche a me CMS, perché se non avessi fatto AMS, probabilmente avrei fatto CMS, vedi, una lettera, però. Sono contento. È una cosa interessante da notare, visto che CTMS, che qui noi abbiamo un esperimento, anzi, in realtà più di uno, che si trova sottoterra, ben 100 metri sottoterra, mentre l'esperimento che tu hai citato si trova nello spazio. A 400 km di attività. Quindi ci sono infiniti modi di fare studiare la fisica delle particelle. Che poi, di fatto, in realtà è una sinergia, cioè guardiamo spesso le stesse, facciamo le stesse ricerche con metodi totalmente diversi, ma per rispondere alle stesse domande, quelle dell'antimateria, quelle della materia oscura e tante altre piccole cose. Quindi, in realtà, è una connessione, perché sempre di fisica di particelle si tratta, attenzione, AMS è astroparticelle, non astrofisica, ci tengo a dirlo, che è un'altra cosa, è un'altra metodologia di lavoro. Però, chissà, magari un domani avremo un esperimento basato sulla Luna. Ho letto un articolo a riguardo, e di solito sembra una cosa futuristica, e per adesso lo è, ma di solito funziona che prima qualcuno ci pensa, qualcun altro scrive un articolo, e poi, dopo un po' di tempo, qualcuno lo costruisce anche, lasciando tutti a bocca aperta. Diciamo che per concludere questa introduzione, così poi io vado, vi porterò attraverso, diciamo, userete i miei occhi e le mie mani, sono una specie di avatar per voi, diciamo così, per portarvi, appunto, scenderò a 100 metri sotto terra, diciamo, veramente no, a meno 80 e meno 90, perché come diceva giustamente Marco, siamo in fase di test, quindi non possiamo entrare nella caverna, ma questo, diciamo così, cioè, non è negativo, nel senso che si possono vedere comunque tante cose, e magari vi invoglierà a pensare per il vostro futuro a un mestiere di questo genere, perché no? Va bene, quindi ci fai da Virgilio, mentre io, non so, magari faccio Dante, però rimango qui, giusto, Beatrice è più appropriata, allora, visto che io sono la seconda guida, io faccio Virgilio, tu scendi, visto che il 2021 è l'anno, l'anniversario di Dante, sembrava anche interessante fare un parallelo. Ma tu fai questo parallelo, in realtà a maggio abbiamo avuto, maggio o giugno, non ricordo adesso, c'è stato un appuntamento con, non so come chiamarli, i letterati di tutto il mondo della lingua italiana, c'è molta gente, e quindi hanno fatto una visita a CMS, e io mi trovavo per caso in questo evento, e ho condotto esattamente come uno pseudo Virgilio, una pseudo Beatrice, andando nel meno tre, che è il meno cento dell'inferno, e poi passando per il meno due, che è il meno novanta, il purgatorio, per poi risalire su, nel paradiso. A rivedere le stelle. A rivedere le stelle. A rivedere le stelle. Quindi ho fatto esattamente questa cosa, quindi il parallelo ci sta tutto. Allora, io direi questo, io intanto comincio a prepararmi, magari ve lo faccio vedere da qui, diciamo in background, in maniera tale che così i ragazzi vedono come ci si prepara, come si accede anche a questo, a queste zone sperimentali, e ti cedo la parola e poi ce la passeremo durante l'anno. Va bene. Quindi, io mi... Fai un giro anche nella sala di controllo, o andiamo direttamente, scendiamo sotto? Scusate, qui dobbiamo parlare inglese, ovviamente, questo è un must, anche se abbiamo... Allora, dobbiamo dire, abbiamo Zoltan, che è il mago, è il mago che ci permette di fare tutte queste cose, e abbiamo Noemi, che avrò occasione di farla, eccola, ci viene a salutare, che verrà con me, mi aiuterà a non perdermi nei meandri di GMS. So, what I would propose, since we are at an injection physics beam, probabilmente it is better if you go around now, because if it becomes stable beams... Then we have to clear the control room. Yeah, esatto. Ok, ok. Allora, vado prima nella control room, faccio un piccolo giro, tu descrivi oppure dico io, e poi dopodiché scendo sotto, va bene? Va bene, d'accordo. Io vi saluto e ci vediamo prossimamente su questi schermi. Ciao. Ciao. Allora, magari mentre Sonia raggiunge intanto la control room, io vi dico giusto un paio di cose. Allora, leghiamo il mio cappotto, che è sicuramente meno interessante. Dunque, prima vi stavo mostrando queste immagini, questa è una visione trasversale di GMS, ovvero dovete immaginare che i fasci entrano nell'esperimento perpendicolarmente a questa immagine qui. Ora, questa foto non rende bene l'idea delle dimensioni, ma dovete pensare che GMS è un mostro alto, se ricordo bene, circa 12 metri, quindi piuttosto grande, ed è lungo circa 21 metri, quindi è una sorta di cilindro. Come potete forse notare da qui, in un certo senso è fatto da una struttura a strati, un po' come una cipolla, in cui si parte dalla zona più vicina al centro dei fasci, vediamo se riesco a indicarla, che in fatto sarebbe qui, dove cominciamo ad avere i primi rivelatori, ciascuno dei quali ha un compito ben preciso. Ora, non so quanto voi magari abbiate già visto, vi sia stato raccontato di come funzionano i diversi rivelatori, ma sostanzialmente quello che accade è che ciascun rivelatore ha uno scopo preciso in base al modo in cui la materia, diverse particelle, elettroni piuttosto che altre, interagiscono nel momento in cui attraversano il nostro rivelatore. Generalmente, nella zona più interna, ci sono dei rivelatori chiamati tracciatori, e come forse il nome suggerisce, il tracciatore è un rivelatore che ricostruisce la traccia delle particelle cariche. Questo ci permette di fare molte misure interessanti riguardo le proprietà delle particelle che lo stanno attraversando. In particolare... Zoltan ci fa il piacere di mostrarci un'immagine. Questa che vedete qui sostanzialmente è la stessa immagine che vedete qui, una sorta di fetta, questa la immaginate come una pizza, quella che adesso dovreste vedere nell'immagine. E qualora non la vedeste, magari fatemelo sapere, stiamo mostrando una fetta triangolare dell'esperimento, in cui, come vedete, all'interno si parte da un tracciatore, che di solito è un rivelatore fatto a silicio. Dopo il tracciatore, di solito, vengono posizionati altri rivelatori chiamati calorimetri. Magari se voi avete fatto un po' di termodinamica, il termine vi ricorderà un po' quegli strumenti usati per misurare i scambi di calore, e in un certo senso è proprio quello che accade. Le particelle, una volta che arrivano nel calorimetro, di fatto rilasciano tutta la loro energia là dentro. Questa poi viene convertita in opportuni segnali elettrici che noi possiamo leggere, interpretare, e da questi misuriamo, tra le varie cose, l'energia delle particelle. Una cosa che... All'esterno poi dei calorimetri, nel caso di CMS, abbiamo il magnete superconduttore. Questo solenoide, una grande spira, se volete, una sorta di molla, per vederla, diciamo, immaginando come è fatta, e produce un campo magnetico molto potente di 3.8 Tesla. Per fare un confronto, il campo magnetico terrestre è dell'ordine di 5 su 100.000 Tesla. Quindi, di fatto, il campo magnetico che questo solenoide produce è circa 100.000 volte più grande di quello terrestre. E il campo magnetico è una cosa fondamentale in questi esperimenti di fisica, perché le particelle dotate di carica elettrica, quando sono immerse in un campo magnetico, sentono una forza che le porta a deviare dalla loro traiettoria rettilinea. La cosa importante è che, misurando il raggio di curvatura, quindi quanto queste particelle cambiano alla loro direzione, possiamo misurare l'impulso delle particelle, la quantità di moto, sostanzialmente. Ora, talvolta in alcuni esperimenti il magnete non si trova sempre all'esterno dei calorimetri. Questa è una particolarità di CMS che fa sì che questo magnete abbia un diametro di 6 metri. Quindi è davvero il magnete, penso, più grande che esista al mondo. che contiene, come abbiamo detto, il tracciatore e i calorimetri e al suo esterno sostanzialmente non dovrebbero esserci altri rivelatori, perché tutte le particelle ci aspettiamo che vengano assorbite dai calorimetri. Marco, scusami, mi senti? Ti sento, però non ti vedo. Allora, stiamo chiedendo se possiamo fare un giro nella control room. Scusa se ti interrompo, ma visto che se abbiamo l'ok dobbiamo procedere subito. Va bene, allora ti lascio la parola. Sì, sì, un attimo che ho la risposta. Can we go? Ok, quindi andiamo un attimo in maniera tale che possiamo... Allora, la control room è composta da due sale. Una è questa, quella che vi mostro, e un'altra alle mie spalle. In realtà è una sala unica divisa in due parti. Allora, direi che cominciamo dallo chief leader, che mi sembra... Scusate un attimo. Ok. Allora, questa è la postazione, in effetti, dello chief leader, che è la postazione... Non so, vuoi descrivere tu, Marco? La postazione fondamentale, io direi, quella è il capo di tutto, quello che gestisce, che è responsabile, in realtà, delle varie mansioni. Sì. Nel senso che ciascuno sa fare il suo lavoro, però poi, alla fine, chi gestisce tutta l'orchestra, il maestro di orchestra, mettiamola così. Esattamente. E credo di non dire male, di non dire male, visto che qui poi, quando ci sono degli eventi e delle cose che succedono rispetto al rivelatore, oppure delle particolari cose, diciamo così, che stanno succedendo, tipo far partire una presa dati, finire una presa dati, oppure doverla fermare, eccetera, a quello che mi risulta vengono messe delle piccole, dei piccoli pezzettini di musica, che sono dei queen. Sì. Giusto? Tipo quando, It's a Kind of Magic, quando si ha un evento di X, oppure Don't Stop Me Now, quando si ferma un run, come lo chiamiamo noi, una presa dati, chiaramente non è che viene messo direttamente, è automatico, perché chi ha fatto il programma ha collegato questi piccoli pezzetti di musica, quindi come vedete non siamo affatto noiosi da questa parte. di fatto siamo in fase di iniezione, cioè stiamo per iniettare i fasci, quindi io non so se si riesce a vedere questo schermo, non vorrei disturbare moltissimo, ma forse Zoltan lo può mostrare, lo può mostrare direttamente sullo schermo, e quindi magari tu poi Marco puoi prendere l'occasione di spiegarlo meglio, i due fasci esatto, la linea blu e la linea rossa, che esprimono, che rappresentano quello che sta, i due fasci di, che ovviamente viaggiano all'interno dell'acceleratore, e viaggiano in direzione contraria, ovviamente a un certo punto, quando saranno alla giusta energia, si faranno eh collidere nei quattro rivelatori eh che abbiamo sull'LHC. Io continuo nella mia, nella mia passeggiata all'interno della sala di controllo, vedete tante postazioni, non entriamo nel dettaglio, ma vedete monitor, eh a volte ci si può assentare velocemente, poi tornare, dipende quel lavoro che si sta facendo, e chiaramente quando a un certo punto ci saranno i fasci, all'interno del, e quindi le collisioni, non sarà più possibile, non sarà più possibile stare qui, perché ci sarà molto, come dire, molto lavoro, e non possiamo intracciare. L'altra parte della control room, Marco interrompimi se vuoi aggiungere delle cose, l'altra parte della control room che è dedicata, ovviamente diciamo, quella era la parte di gestione generale, poi abbiamo una parte di gestione dei singoli, come li chiamiamo, sottorivelatori, cioè quelle fette che vi stava mostrando, eh Marco, dalla, dalla sezione del rivelatore, ciascuno di essi viene gestito, da un, diciamo, un gruppo di persone che ne controlla, il, il, il funzionamento specifico, e di fatto qui vedete che abbiamo tutta una serie di monitor, per esempio ecco, io so che Marco ha lavorato nelle call, vi presento la postazione, il calorimetro elettromagnetico, che è dedicato per misurare l'energia, in particolare degli elettroni, o dei fotoni, e, e quindi di fatto, questa è la postazione, in questo momento, eh, non c'è nessuno, ci sono, vedete, otto monitor qui, eh, però ci sono le altre persone, quindi, chiaramente questo lavoro si potrebbe fare anche da remoto, però è ovvio che quando si è all'inizio di un test, tutti vogliono essere qui, perché, se succede qualcosa, vedremo, avremo delle, 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 abbiamo delle, delle sale di elettronica, che sono in effetti, eh, sotterranee, quindi se bisogna andare a cambiare qualcosa, perché c'è un problema che non funziona, si è già nel posto giusto per poter scendere. Marco, volevi aggiungere qualcosa della control room, posso andare, posso cominciare? Puoi andare. Sì. Ok, perfetto, allora, adesso usciamo dalla control room. Magari in giusto due secondi, concludo il discorso che stavo facendo prima, quando parlavo, ero arrivato a parlare del magnete, inizialmente vi dicevo che all'esterno del magnete, non ci dovrebbe essere nulla, in realtà, tipicamente ci sono dei rivelatori speciali che servono a rivelare i muoni, i muoni, non so se voi ne avete mai sentito parlare, ma potete vederli come dei cugini più pesanti degli elettroni, e hanno la particolarità di essere capaci di attraversare la materia, diciamo, per lunghe distanze prima di essere bloccati, ed è il motivo per cui di fatto sono praticamente quasi le uniche particelle che possiamo trovare al di fuori dei calorimetri, e quelle zone rosse che vedete lì, quella è un gioco di ferro che serve a richiudere il campo magnetico prodotto dal solenoide, mentre le altre camere, quelle in grigio, rappresentano le camere per muoni. Ti rilascio la parola, Sonia. Allora, approfittiamo del fatto, ecco, approfittiamo del fatto, c'è una persona che sta entrando, che farà esattamente quello che dovrò fare io tra qualche istante. Ora, questa è una delle varie porte di accesso che abbiamo per entrare, per cominciare a entrare nella zona sperimentale. Qual è il modo di accedere? Ora, questa famosa porta verde, io so, abbiamo scherzato un po' con Marco, adesso mi faccio aiutare da Noemi, e vado davanti alla webcam, alla webcam così mi vedete, questa porta verde, abbiamo scherzato con Marco, perché in realtà io penso che molti di voi abbiano visto il film Angeli e Demoni, dove effettivamente questa rappresenta, è in una delle sequenze iniziali del film, e dove succedono cose, diciamo così, un po' cruente, perché in effetti questa porta, sentite, abbiamo ovviamente qui del lavoro, probabilmente, ecco, lo sta partendo, non so se Noemi ce lo può far vedere, è più interessante di me, questo viene chiamato il carro ponte, di fatto non è altro che una grossa gru, che viene spostata all'interno dell'edificio, e dove possiamo, chiaramente, non so se riuscite a vedere il gancio, io cerco di indicarlo, è il gancio lì che verrà spostato, per poter trasportare del materiale, dalla zona sperimentale, vedete il gancio comincia a muoversi, verso il centro, e forse possiamo andare a vedere, dovrebbe scendere, ora, quello che io non so, se il materiale deve essere portato giù, immagino di sì, perché vedo delle scatole, quindi molto probabilmente, quest'operazione consisterà nel prendere del materiale, e scenderlo attraverso questo, non lo chiamiamo pozzo, in realtà è un buco, è un grosso buco, vedete questa parete bianca, in di fianco, questa è quella che si chiama, diciamo così, la tromba dell'ascensore, io infatti prenderò questo ascensore, per scendere sotto, ma accedendo dalla porta, che vi ho detto, e questa è un'operazione, che quando sei in fase di lavoro, qui bisogna, bisogna fare attenzione, perché chiaramente, ecco perché anche, mi avete visto indossare il casco, allora adesso torniamo dall'altra parte, vi dicevo dunque, quali sono i controlli, che vengono fatti su questa porta, beh ci sono tre tipi di controllo, uno è un controllo di peso, nel momento in cui entro, e quindi mi devo posizionare, in una zona ben precisa, perché bisogna controllare, che non si metta del materiale, di fatto questa è una porta per le persone, accesso per il personale, dopodiché c'è anche, un controllo, attraverso dei raggi infrarossi, per verificare, che io non entro per esempio, con uno zaino, con della roba su di me, perché di nuovo è una porta, semplicemente per le persone, e terza cosa, c'è il controllo dell'iride, c'è il controllo biometrico, perché tutte le persone, che hanno il diritto di accedere, hanno depositato nel, nel database del CERN, la foto della loro iride, e quindi veniamo riconosciuti, attraverso questo controllo biometrico, questa è la scena famosa, di angeli e demoni, dove l'occhio viene preso, eccetera, adesso sono tutti e due, quindi sarebbe terribile, spero non succeda, allora come si entra, io ho il mio dosimetro personale, questo dosimetro personale, in realtà serve, per fare in modo, lui viene sempre con me, quando io entro qui, e di fatto, ora io immagino, che avremo anche, delle classi quinte, insomma gli integrali, se non li hanno visti, ne hanno sentito parlare, ma comunque, si tratta semplicemente, di un oggetto, che somma, la quantità di radiazione, a cui io sono esposta, e io ho l'obbligo, almeno una volta al mese, di controllarlo, in maniera tale, che i dati, vengano mandati, al centro medico del CERN, e venga, controllato, che effettivamente, io non sono stata esposta, ad una dose di radiazione, pericolosa, tenete conto, che se questo è successo, se voi portate questo oggetto, in un viaggio aereo, andate in quello che si chiama, il famoso overflow, nel senso che, la quantità di radiazione, che a cui si è esposti, per un semplice viaggio aereo, è molto, ma molto più alta, di quella, che noi, abbiamo qui in esposizione, anche durante tutto, un anno di lavoro, quindi immaginate, quali sono i livelli, qui di radiazione, è veramente una protezione, che noi abbiamo, che dobbiamo fare, ma che di fatto, cioè, è semplicemente, una regola, che dobbiamo seguire. Allora, io con questo oggetto, adesso entro qui, e vi farò vedere, come faccio l'entrata. ovviamente, magari posso dirvi, per non spaventare qualcuno, che già abbia dei timori, sull'uso dell'aereo, è chiaramente, la radiazione, che viene prodotta, durante le collisioni, dei fasci, in grandissima parte, viene assorbita, da rivelatore stesso, è proprio il suo scopo, oltre al fatto, che il rivelatore stesso, si trova in una caverna, diciamo, con, delle strutture, di contenimento, di vari materiali, insomma, che chiaramente, devono, catturare, tutta, o almeno, la gran parte, della radiazione residua. No, ma di fatto, la radiazione, sicurezza comunque, non è mai troppa. No, no, ma infatti, ma noi siamo, diciamo, come dire, noi ci mettiamo le cinture, di sicurezza, in mattina, non perché pensiamo, che faremo un incidente, per proteggerci, nel caso, in cui succeda. Ora, tenete conto, che quando, cioè, se abbiamo un periodo, di fasci, e poi, i fasci, vengono interrotti, di fatto, possiamo entrare, direttamente, in caverna. Quindi, la radiazione, che abbiamo, è quella, quando abbiamo le collisioni, ma, non c'è bisogno, che ci sia nessuno, quando ci sono le collisioni, in caverna, non serve a niente, non è che le vediamo, con gli occhi, queste collisioni, abbiamo tutta l'elettronica, e tutti, i prolungamenti, diciamo, dei nostri sensi, per poter, gestire queste situazioni, dall'esterno. E ripeto, il fatto, che appena si spengono, i fasci, sia possibile, se necessario, chiaramente, accede, con un dosimetro, di questo genere, è un altro tipo di, che reagisce, sommando, ma, istantaneamente, quindi, diciamo, funziona con una derivata, se volete, non con un integrale, che si chiama dosimetro operazionale, vuol dire, che effettivamente, i livelli, non sono molto grandi, ecco l'ascensore, che è arrivato, come vedete, io direi, che entriamo nell'ascensore, a un certo punto, dunque, vedete, siamo a zero, eh, perderò la connessione, io comunque adesso, quel momento, subentro io, vado, sì, e io vado adesso, a meno uno, che è il meno ottanta, vediamo, quando perdo la connessione, proviamo a farvi vedere, la discesa, siamo dentro, tenete conto, che questo ascensore, effettivamente, ci possono entrare, fino, diciamo, tra trenta e quaranta persone, però in questo momento, solo cinque, a causa delle regole, ecco, Sonia ha perso la connessione, allora subentro io, eh, come stava dicendo, a causa delle restrizioni, covid, dobbiamo, tutti noi cercare, insomma, di mantenere i distanziamenti, una cosa, diciamo, interessante, di questo ascensore, è che, probabilmente, questo ascensore, che abbiamo qui, è uno dei pochi ascensori, al mondo, per i quali vale l'obbligo, di usarlo, in caso di incendio, per abbandonare, l'aria sottostante, adesso come vedete, mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo di nuovo. Sono tornata, sono tornata, sì, ho sentito, stavi dicendo questa cosa bellissima, del fatto che, l'evacuazione, nel caso fosse necessario farla, la facciamo attraverso l'ascensore, eh, non so se avevi detto, perché, effettivamente, la colonna che ho mostrato prima, adesso mi vedete, sono in quella che è ancora una zona sicura, vedete, ed effettivamente ancora dentro quella colonna bianca, che indicavo prima, e di fatto qui, l'aria viene pompata verso l'esterno, per cui, se ci sono fumi, oppure ci sono perdite di gas, per esempio, che possono essere nocive, possono, come dire, sostituire l'ossigeno, quindi è pericoloso, cioè non si può respirare, effettivamente questa è una zona sicura, dove, o si prende direttamente l'ascensore, come adesso ho fatto io, oppure si aspetta l'intervento, le istruzioni, o della control rumo, dove siamo stati, o dei pompieri, tenuto conto che noi abbiamo, una brigata di pompieri, al CERN, per noi, ok? Quindi, insomma, siamo ben, come dire, organizzati, di nuovo questo perché, il problema della sicurezza, nei luoghi di lavoro, è importante, quindi cerchiamo tutti di rispettarlo. Vedete che la porta, anche una porta ignifuga, molto pesante, oltretutto, siccome c'è questa ventilazione, è anche complicato tirarla, bisogna veramente farlo, con tutto il peso del corpo, ecco, e quello che vorrei farvi vedere, sono venuta qui, perché quello che è interessante, è in effetti questo modello, allora io adesso, mi metto dall'altra parte, cerco un altro, un attimo, mi senti? Sì, una cosa che volevo aggiungere, sull'ascensore, che chiaramente, nei casi di estrema emergenza, esiste anche una rampa di scale, ma come forse avrete notato, adesso Sonia si trova a circa meno 80 metri, sotto il livello del suolo, poi lo mostrerò, si farò vedere le scale, poi le faccio vedere, sono ancora altre 10 e più metri in basso, quindi capite bene, che fare 90 metri di scale, per fuggire dalle fiamme, non è proprio una passeggiata, diciamo, io personalmente, se dovessi scegliere, penso che le fiamme, non sarebbero poi così male, tutto sommato, e comunque bisogna essere autorizzati, dai pompieri, perché di fatto, quello che succede, siamo, vedete, allora, questa qua, che vi sto mostrando, questa è la, la colonna, diciamo così, la tromba dell'ascensore, e questo è il buco, che abbiamo mostrato prima, dove c'era la gru, che si muoveva sopra, di fatto, che cosa succede, qual è il grosso pericolo, per cui, nella vita di tutti i giorni, vi dicono, di non prendere l'ascensore, di prendere le scale, ma in questo caso, è il contrario, perché, in effetti, abbiamo l'effetto caminetto, cioè, se si producono dei fumi qua sotto, quello che succede, è che i fumi vengono tirati verso l'alto, quindi, se voi fuggite attraverso le scale, che non sono protette, di fatto, siete avvolti dal fumo, nel caso in cui ci sia fumo, e quindi, questo è pericoloso, nel caso del gas, è diverso, perché dipende da quale tipo di gas, perché ci sono dei gas più pesanti dell'aria, quindi, si depositano, in basso, e allora, il fatto di andare in alto, vi salva, ma nel caso di fumo, bisogna fare veramente molta attenzione, altrimenti, infatti, le vittime degli incendi, non sono tanto per bruciature, a meno che uno non abbia l'incendio, proprio il fuoco, proprio vicino, ma sono veramente per asfissia, quindi, questo bisogna fare attenzione. Volevi aggiungere altro? Posso descrivere un pochino la topologia della zona? Vai, vai, prosegui pure. Perfetto, allora, dunque, questo modellino, eh, dovrebbe cercare di spiegarvi, non so se si riesce a vedere bene, la topologia di questa zona, pensate che sottoterra, appunto, diciamo, a questi, tra meno cento e meno ottanta, abbiamo due enormi caverne, questa caverna un po' più lunga, da cui adesso, dove mi trovo io adesso, in effetti, io mi trovo proprio alla, quasi, non proprio alla base, ma quasi alla base di questo ascensore, è chiamata la caverna di servizio. Cosa contiene la caverna di servizio? Bene, contiene tutti gli oggetti, l'elettronica, le pompe, eh, gli alimentatori, tutto quello che serve a far funzionare il nostro rivelatore. Ovviamente raccoglie anche i dati, li elabora in parte, e poi li manda in superficie per una ulteriore elaborazione. Dov'è il nostro rivelatore? Il nostro rivelatore è collocato in un'altra caverna, come vedete, parallela, che è quella dove non potremo entrare, e forse riuscite a vedere il rivelatore dentro. Questa caverna qui, faccio il giro, questa caverna qui, è quella che si chiama la caverna sperimentale. E vedete dentro uno sfaccato del rivelatore, poi avrete delle slide che vi permettono di vedere un po' meglio. Vorrei far notare che anche questa caverna, che come vedete ha una, diciamo una, una forma leggermente diversa da quella di servizio, cioè un pochino più larga e un po' più corta, in realtà è provvista di un grande buco di accesso verso la superficie. Perché? Perché ci è messa questa particolarità. Tra i quattro esperimenti del, dell'LHC è l'unico che è stato totalmente assemblato, cioè quindi costruito in toto, in superficie. Tenete conto che questo, io lo chiamo bebè, bambino, bestiolina, non so come la volete chiamare voi, questo grosso oggetto, questa grande macchina fotografica, in senso lato, ha una lunghezza di circa ventiquattro, venticinque metri. Ora, ventiquattro, venticinque metri sono più o meno un palazzo di otto piani. Qui avete un palazzo di otto piani steso in orizzontale. E la sezione, cioè il diametro di questo cilindro, è di circa quindici metri, quindi un palazzo di cinque piani. Ora, capite bene che non c'è nessuna gru che possa trasportare questo oggetto in un solo momento, in un solo pezzo sotto, anche perché il peso di CMS è di quattordicimila tonnellate, quattordicimila tonnellate. Allora, io so che viene fatto l'esempio che il ferro presente in CMS è la quantità di ferro è maggiore della quantità di ferro contenuta nella Torre Eiffel a Parigi. A me piace pensarla in un'altra maniera. una qualsiasi piccola macchinina da città, quella che viene chiamata la city car, ok? Io dico sempre, ormai faccio pubblicità perché la macchina elettrica mi piace tantissimo, la Zoe, ma diciamo, più o meno una city car pesa una tonnellata, più o meno, ok? Allora, immaginate che il peso equivalente di questo oggetto è una collina, se la volete chiamare collina, o piccola montagna di quattordicimila automobili una sopra l'altra. Quindi è qualcosa di pazzesco. Allora, com'è che è stato costruito per poterlo scendere? A fette. A fette che si possono connettere una con l'altra. Quindi si possono collegare. Quindi di fatto è stato costruito in superficie. Ogni fetta è stata scesa nella caverna, posizionata nel luogo dove doveva essere messa, e pian pianino si è ricostruito tutto il rivelatore. E questo dà la possibilità anche a un'altra cosa. Il fatto che ogni volta che vogliamo accedere al rivelatore quando non c'è fascio ovviamente e manipolare, cambiare, controllare, dipende dal tempo di accesso che abbiamo, possiamo aprire il rivelatore in una maniera molto semplice, semplicemente allargando le fette. Facile a dirsi, meno facile da farsi in pratica, ma magari avremo tempo di parlarne più in là, ricordiamocela come cosa, se qualcuno è interessato, potremmo dire esattamente qual è la tecnica per aprire e chiudere tipo un organetto CMS. E possiamo parlare dopo. Esatto, voglio soltanto mettere un po' di curiosità. Aria compressa. Detto questo, detto tutto. Mi avevi chiesto le scale, te le faccio vedere, eccole qua. Eccole. Adesso non hai amici, aiuta. dovremmo riuscire a vedere le scale e forse, vediamo un po' perché Noemi è bravissima a mostrare le inquadrature, vi facciamo vedere anche praticamente la superficie, riuscite a vedere il quadrato luminoso che c'è sopra, la parte più luminosa sopra. In effetti, io prima ero lassù e il gru che si muoveva gialla è posizionata proprio dallassù. Di fatto, il trasporto avviene dalla sopra, il materiale scende e sale attraverso questa colonna. Ultima cosa che mi sembra interessante, Marco, se non vuoi aggiungere altre cose riguardo il pozzo, è un'altra cosa ma ti lascio la parola per prima. Ok, d'accordo, e poi dopo ti lascio aggiungere, bene, una cosa interessante è le colonne come vedete per la ventilazione, vedete questa parte grigia da questa parte qui e poi questa, spero di indicarlo bene, questa cosa marrone, ecco, Noemi lo sta mostrando che in realtà non è sembra marrone ma in realtà sono cavi di sono proprio cavi e sono cavi di rame. Cos'è? Bene, avete presente quando mettete nella presa di casa avete tre pin, come si chiamano? Tre spinotti, eh? Uno è la terra, quella che chiamiamo la messa a terra, eh? Che ha fatto un po' di elettricità a scuola, nel senso avete fatto la messa a massa, la messa a terra, eh? Insomma, il punto di riferimento del potenziale. E bene, questa è la nostra messa a terra, perché cosa? Per il magnete, perché di fatto... C'è quello che volevo dire prima, infatti, proprio far notare quello. Esatto, allora io faccio notare com'è, poi lascio a te la parola, eventualmente ce la pareggiamo un pochino. Cioè, questo è il nostro pin, ora non so se riusciamo, magari andiamo un attimo più vicino, li facciamo vedere, cioè guardate lo spessore di ciascuno di questi cavi. Tenete conto che ciascuno di questi cavi deve trasportare in eventualità, e speriamo che non succeda mai, l'energia che deve essere evacuata dal magnete in caso in cui si perda la superconduttività. Marco, se vuoi aggiungere qualcosa, prego. Come Sonia ha accennato, il magnete ha una particolarità che lavora in stato di superconduttività. Questo vuol dire che in determinate condizioni di fatto non produce resistenza elettrica. E la corrente che ci scorre all'interno è dell'ordine di circa, se ricordo bene, 18.500 ampere. È una corrente enorme. Marco, io l'ho visto, nel senso, non l'ho solamente letto da qualche parte. Ero con Noemi che faceva le misure e ho proprio visto questo numero, quindi sono sicura che è giusto. Ed è una cosa enorme perché già un ampere è una corrente che può essere potenzialmente mortale, anzi, molto probabilmente lo è. Se voi prendete una pila da un volt, quelle comuni pile per uso domestico, e chiudete il circuito da braccio a braccio, magari non lo fate, ma non è particolarmente pericoloso con un solo volt, siccome la vostra resistenza elettrica tipica del corpo è dell'ordine di un mega ohm, la corrente dalla quale sareste attraversati a dell'ordine di un milionesimo di ampere. Quindi, 18.000 ampere, capite bene, che è una corrente enorme. Ed è per questo che quelle bobine... C'è un altro esempio che possiamo fare. Normalmente, nelle case, quando si fa, diciamo così, un po' il design, eccetera, si conta grossolanamente un ampere a persona. Quindi, di fatto, quando un appartamento dove si prevede che ci debbano vivere all'incirca quattro persone, per tutto quello che si fa a casa, cioè, pensiamoci, il microonde, il forno, la doccia, l'iscaldamento, i computer, la tv, anche se consumano poco, poi alla fine di corrente che si manda, l'intensità di corrente che si calcola quando si fa il design, è un'ampere a persona. Quindi, 18.000, come dicevi tu, giustamente è un numero enorme. Ed è il motivo per cui quei cavi sono così grandi, perché in caso di emergenza devono poter far defluire l'energia contenuta nel magnete con una resistenza che sia quanto più bassa possibile, altrimenti fonderebbero. Esattamente. Poi, dopo di che, dopo quei cavi che fanno fluire questa energia in superficie, non è finita la storia, perché questa energia viene inviata su un, diciamo così, un cubo di spigolo di sette metri ancora di rame, un cubo pieno, ok, non vuoto, di rame messo in una, esternamente in un'altra, noi la chiamiamo baracca, in un altro edificio e quello che eventualmente rimane residuo viene scaricato a terra. Quindi, immaginate, chiaramente questo evento, se non ci fosse questo tipo di evacuazione di energia, potrebbe provocare un'esplosione che distruggerebbe tutto il rivelatore, perché chiaramente il magnete è all'interno del rivelatore. Visto che parliamo di campo magnetico, vi faccio vedere che noi abbiamo il magnete in questo momento acceso, vedete la segnalazione del, del, che c'è campo magnetico, non possiamo entrare come vedete da questa parte perché accederemo alla caverna, ma quello che facciamo invece adesso ci dirigiamo dall'altra parte, vediamo una porta gialla effettivamente qui, dove non possiamo accedere, di nuovo, allora i colori delle porte come come ama dire come ama dire Zoltan e me io sono mi piace mi piace di ripetere mi piace ripetere quello che lui dice, non è che lo cambiamo perché abbiamo finito la pittura, è perché a seconda dell'accesso cioè il colore delle porte ci indica l'accesso, di fatto molto brevemente, se qualcuno, cioè se si forza una porta verde, di fatto non si ha alcun impatto su quello che succede sulla presa dati, sul fascio, ma se si cerca di forzare una porta gialla o addirittura abbiamo una porta rossa, si può avere impatto sulla sulla circolazione del fascio nel senso che il fascio può essere interrotto e quindi vedete che qui adesso abbiamo tutto quanto il sistema di monitoraggio come sta mostrando Noemi perché non possiamo accedere alla caverna sperimentale. Quello che facciamo adesso ci dirigiamo dall'altro lato quindi io sono adesso sono scesa di un piano sono a meno 90 e ci dirigiamo dall'altra parte dove vi mostrerò vi mostrerò semplicemente una delle stanze dell'elettronica eh che è una parte del cervello che permette di interpretare i dati che vengono presi dalla caverna Sonia se posso aggiungere quello che prima Sonia vi raccontava riguardo il fatto che il fascio viene inibito nel momento in cui si forzano determinate entrate è legato a motivi di sicurezza chiaramente quando ci sono queste attività con i fasci in corso che collidono poi nei rivelatori nessuno deve trovarsi in determinate aree perché è pericoloso si sviluppano radiazioni quindi i sistemi di sicurezza sono tali per cui qualora venga rilevata la presenza di una persona vengono effettuate determinate azioni che di solito appunto coinvolgono lo spegnimento dei fasci questo è anche uno dei motivi per cui dal livello superiore da cui Sonia è partita ci sono tutti questi controlli biometrici il fatto che nelle porte non ci si possa entrare ad esempio in due questo perché bisogna sempre sapere chi chi entra quanti escono proprio per evitare che rimangono persone diciamo giù ad oggi risulta che nessuno sia mai rimasto abbandonato ai piani superiori a piani inferiori e continueremo diciamo con questa a mantenere questo record no Marco ti informo di una cosa allora nessuno è rimasto abbandonato e chiuso sotto ma quello che abbiamo avuto almeno due casi io li ho avuti in cui è stato segnalato quello che si chiama un ghost cos'è il ghost? praticamente il sistema non ha ricevuto il segnale di uscita della persona quindi di fatto la considerava ancora dentro anche se fisicamente la persona era fuori è successo una volta eh ad una persona che conosco ed è successo credo durante le porte aperte perché i caschetti che noi usiamo e anche quelli che diamo ai visitatori quando possono venire qui hanno un chip e quindi li possiamo seguire e quello che succedeva quando a fine evento eh avevamo tutti i caschetti messi a posto quindi le persone erano uscite il sistema ci segnalava ancora qualcuno dentro quindi questo vabbè ma questo ci sta a volte succede sono piccoli bachi del sistema ma per il resto eh le persone fisicamente non erano qua ora eh sono qui proprio a indicarvi questo cartello dove vedete se voi foste venuti qua questo è diciamo il bonus di avere una visita virtuale voi non sareste potuti entrare in queste zone dove io invece adesso andrò eh non voglio entrare nel dettaglio non so se Marco poi vuole dire qualcosa riguardo a tutto quello che vedrete qui eh perché si tratta di cavi di segnali di elettronica sappiate che questo ci permette di interpretare quello che succede dentro e se volete di vedere e di trasformare in immagine quelle che sono le collisioni delle particelle tutta questa cosa ed è soltanto una piccolissima parte di tutta l'elettronica che serve per poter avere l'immagine finale ma eh vi prego di guardare la cura e il cablaggio perché il cablaggio ovviamente ci sono delle mappe perché altrimenti non riuscireste a vi perdereste come vedete soltanto nella connessione di tutti questi cavi quindi non so Marco se tu vuoi commentare qualcosa io per adesso ti lascio la parola che sei immersa in quest'ambiente quindi lascio a te l'onore io devo dire che non so c'è c'è un non so che c'è un'estetica anche in questa cosa qui non voglio parlare di opera d'arte però io posso assicurare che avendo fatto anch'io dei cablaggi ovviamente non per CMS ma per AMS e con delle fibre ottiche come ce ne sono qui per esempio vi posso assicurare che la manipolazione di questi cavi e soprattutto connettere questi cavi nel posto giusto eh senza confondersi come vedete qua per esempio e questo è solo un esempio non è affatto facile e quando come vi dicevo prima quello che avete e che state facendo il test e succede che vi avete un errore che il vostro programma di monitoraggio vi dà un errore voi dovete venire qui e e capire qual è il cavo che dovete muovere o il modulo che dovete muovere non è affatto semplice allora qui adesso c'è addirittura un armadio aperto eh per quelli che sono magari non so in il laboratorio avrete usato degli oscilloscopi penso ecco qua abbiamo anche noi i nostri oscilloscopi connessi sono in fase di test stanno facendo qualcosa queste strisce che vedete arancioni segnalano che queste chiamiamole armadi di fatto eh non eh non vengono sono sempre alimentati ok quindi di fatto se c'è una 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 un'interruzione dell'alimentazione questi armadi comunque hanno sempre l'alimentazione perché vedete noi possiamo interrompere l'alimentazione in caso di necessità ma quegli armadi rimangono sempre alimentati quindi di fatto è pericoloso avvicinarsi o metterci le mani questa è la mia parete preferita è quella veramente dell'ivoltage come si chiama non so se riuscite a vedere tutti questi cavi rossi mi avvicino soltanto così non so se si riesce a vedere aspettate no sono sul pavimento ok è tutta una parete di cablaggio immaginate cosa significa dover reperire il giusto cavo in questa parete scendo velocemente perché ho visto il tempo quindi scendo velocemente sotto per arrivare allora sto scendendo ancora sotto quindi siamo diciamo sempre almeno novanta ma un livello leggermente più basso abbiamo questa porta rossa che vedete questa porta rossa in realtà è una seconda via di fuga ed è quella che permette a CMS di poter ricevere i visitatori durante l'anno anche quando ce l'ha presa dati fino a questo punto ok questo è perché semplicemente abbiamo la possibilità o di tornare indietro come da dove sono venuta io o di uscire da questa porta non tutti gli esperimenti hanno questa possibilità e di fatto CMS risulta essere tra i quattro esperimenti di dell'LHC l'unico che permette di scendere anche durante la presa dati anche se ripeto non si può andare nella zona nella caverna sperimentale che a cui si accede attraverso questo corridoio che io adesso percorro ma arriverò davanti alla famosa porta gialla puoi soffermarti sulla sull'immagine dell'acceleratore che hai alla tua destra sì un attimo torno indietro quella porta rossa che abbiamo visto prima no intendevo quella dall'altro lato ah vabbè si vede anche qui sì sì proprio l'immagine dell'acceleratore così com'è nella realtà quella porta rossa che vedevamo prima è un la porta di accesso a una porzione del tunnel che a un certo punto si mette nel vero tunnel dove è posizionato l'acceleratore di cui qui vedete un'immagine che è un'immagine molto particolare sì se Noemi mi aiuta un attimo vi faccio vedere come uno potrebbe far passare l'idea che si trova sull'acceleratore come potete immaginare quando portiamo i turisti questo non è vero lo fanno tutti ma questo non è non è affatto vero perché di fatto solamente chi lavora può entrare nel tunnel dell'acceleratore non ci sono visite per l'acceleratore quindi intendevo lo fanno tutti a stare sull'immagine non sul vero ah sì 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 no certo no 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 però abbiamo una ricostruzione in uno dei siti dell'acceleratore quindi eventualmente si può fare anche là questa è la famosa porta gialla identica a quella che dicevo prima quindi non possiamo entrare ma possiamo fare qualcosa adesso ci mettiamo un attimo a giocare eh ok allora abbiamo abbiamo allora la caverna è da questa parte ok diciamo che eh la la parte finale dell'esperimento è a circa trenta metri qualcosa del genere e abbiamo questo campo magnetico che teoricamente dovrebbe essere totalmente intorno all'esperimento chiaramente non riusciti a fare il cento per cento del contenimento del campo magnetico e questo è quello che si vede qua vedete questo guardate questo questo è un rivelatore molto costoso come vedete ok eh io ci scherzo su questa cosa allora ragazzi cioè con le graffette guardate che si può fare ovviamente non una misura ma si può qualitativamente controllare il campo magnetico eh se si calibrasse questo oggetto si potrebbe anche fare una misura adesso vi faccio vedere come guardate qua vedete questa catenella così proviamo a metterla qua qui ci sono delle viti che si magnetizzano ok eccola qua io questa la chiamo la bilancia magnetica mi piace tantissimo mi è capitato per caso allora chiaramente che cosa succede? avete la forza magnetica che tiene in equilibrio questa cosa e dopo di che c'è la forza di gravità allora quello che è successo a me una volta che facendo questa cosa quindi aggiungendo adesso come vedete il campo magnetico la forza magnetica è sufficiente a mantenere tutta questa struttura ma se io continuassi ad aggiungere eh graffette ad un certo punto questa cosa cadrebbe a terra perché? perché vorrebbe dire che non c'è più equilibrio che di fatto la forza di gravità è maggiore di quella magnetica quello che mi è successo una volta è che io giocavo con questa catenella che so perfettamente tenersi quando il campo magnetico del rivelatore è a tre punto otto tesla cioè al suo nominale diciamo così e invece non si attaccava mi cadeva a terra e non capivo perché la prima volta ho pensato che fosse colpa mia l'ho riattaccata due o tre volte e non si manteneva allora sono tornata in sala di controllo e ho chiesto se c'era qualche problema con il campo magnetico e mi hanno detto che avevano per ragioni di test non so adesso avevano dovuto mettere il campo magnetico alla metà dell'intensità che di solito si usa quindi vedete che io non ho potuto fare una misura effettiva però ho potuto capire con delle semplici graffette che effettivamente il campo magnetico era più debole e questo semplicemente con qualcosa eh che diciamo così che uno non penserebbe essere uno strumento eh di misura sperimentale diciamo così quindi come vedete la fisica poi è qualcosa che si vive che si fa tutti i giorni Noemi mostra anche un'altra cosa guardate abbiamo una bussola qua vedete il pin guardate io giro il telefonino ma non fa altro che orientarsi sempre seguendo le linee del campo magnetico che ovviamente non vediamo ma che sono là e che provengono dalla caverna vedete ok quindi questo uno dice ah ho bisogno della bussola no no guardate chiaramente bisogna avere il campo magnetico sufficiente per quanto pesa non è comodo da portare in giro esatto esatto quindi ok io non so se c'è qualche altra cosa altrimenti comincerei a tornare indietro ah ecco forse questa è carina da mostrare vedete questo segnale questo non vuol dire questa è un'area di riposo come certe volte scherziamo quando portiamo i visitatori questo vuol dire che ci potrebbe essere pericolo di asfissia ok e quindi di fatto quando avete questa lampada rossa che lampeggia vuol dire che bisogna uscire è uno dei segnali di evacuazione perché eventualmente è possibile che ci sia stata una fuoriuscita per esempio di elio di qualsiasi altro gas eccetera e quindi bisogna uscire chiaramente se poi abbiamo la sirena vuol dire che bisogna uscire ma e uscire ma come si fa di solito sapete anche nelle situazioni di emergenza come si dice procedere con calma e spediti verso l'uscita mai correre e così come sto facendo adesso io Marco c'è qualche altra cosa? posso tornare su? oppure c'è qualche domanda qualche curiosità? puoi tornare io direi che puoi tornare se ci sono domande possiamo lasciare la parola agli studenti non so certo potete semplicemente levare la modalità muto e farci delle domande oppure se preferite potete anche scriverle nella chat ci sono qui io che le sto guardando se arrivano non siate timidi ragazzi assolutamente no ci dispiace purtroppo che viste le attività che ormai sono riprese non è stato possibile accedere direttamente a vedere l'esperimento CMS ma diciamo capiterà insomma oltretutto se andate su YouTube ci sono diversi video in italiano fatti da insomma da noi studenti o ricercatori che siamo qui che magari vi possono mostrare più da vicino effettivamente come è fatto il rivelatore perché vi garantisco starci effettivamente sotto è una cosa davvero emozionante è un oggetto enorme non è neanche il più grande che abbiamo ce n'è un altro il rivelatore ATLAS che ha la proprietà di essere molto più grande di CMS credo sia alto di 40 metri no è alto 27 metri è lungo la lunghezza è 40 è alto 27 metri anche 30 che dipende dal punto diciamo da cui si fa la misura ma CMS pesa molto di più il doppio il doppio il doppio mi hanno detto non l'ho provato a fare che se uno immaginasse di prendere ATLAS e metterli in una grande busta di plastica e gettarli in mare ATLAS dovrebbe galleggiare è meno denso dell'acqua mentre invece CMS affonda miseramente ovviamente non lo faremo neanche quando dovremo smaltire il rivelatore una volta che avrà finito il suo corso ma se dovessimo farlo questo è quello che vedremmo no noi siamo dei maestri del riciclo una cosa che io non ricordavo perché poi la sapevo è che per esempio per fare il calorimetro adronico che è una parte del nostro del rivelatore CMS per poter contenere le particelle quindi una zona pesante dove le particelle vengono frenate e assorbite quello che è stato usato sono è stato usato l'ottone dei proiettili russi fusi dei proiettili cannone russi dell'Unione Sovietica non russi dell'Unione Sovietica devo essere corretta fusi e quindi ci sono delle foto dei soldati ex Unione Sovietica che fondono queste grosse questi grossi proiettili di cannone per ottenere l'ottone che poi è stato riutilizzato in realtà per fare l'esperimento quindi chiaramente cioè come tutti gli oggetti abbiamo Alice che è uno degli altri esperimenti di LHC dove il magnete per esempio è stato reciclato dal precedente esperimento che era L3 stiamo uscendo adesso come vedete forse è carino far vedere i tecnici stanno depositando il materiale come vedete nella zona questa è dove sarebbero entrati i visitatori ok? perché i visitatori non sono nel database quindi loro depositano il materiale in questa zona adesso fanno il controllo nelle famose porte verdi e poi da fuori riaprono la porta e recuperano il materiale Marco vorresti chiedere per caso a Zoltan se abbiamo un attimo di tempo perché io vada magari se è possibile vicino al poster perché tu giustamente dicevi è impressionante stare alla presenza di CMS forse io potrei con la mia grande altezza di un metro e sessanta mettermi vicino al poster non lo so la grande immagine dell'hunger giusto? esatto se abbiamo tempo chiedi se abbiamo tempo non lo so Zoltan ormai capisce l'italiano quindi ha sentito tutto e ci ha dato il permesso vedo che forse abbiamo perso però il collegamento di Sonia she's not moving anymore va bene se intanto allora aspettiamo di recuperare la connessione ecco ci siamo ah sì sì cosa devo fare io ci sono abbiamo il permesso per andare dove dove dicevi velocemente ok allora l'unica cosa che voglio approfittare c'è questa bellissima foto qua dove come vedete c'è scritto CMS in realtà adesso mi avvicinerò è la foto di alcuni diciamo la collaborazione conta fino a tre mila penso firme ma in realtà di alcune persone che si sono rese disponibili per per farsi fotografare e creare questa bellissima immagine di che rappresenta anche la collaborazione di tutte le persone che lavorano qui vorrei farvi notare che il bianco su fondo bianco sono state fotografate le donne su fondo scuro sono stati fotografati gli uomini e come vedete la percentuale di scuro è maggiore eh sensibilmente maggiore della percentuale di chiaro eh io veramente invito questo è un credo che sia inutile in questo caso perché i professori che hanno contribuito a questa connessione sono già appassionati di scienze ma io veramente invito i professori e soprattutto soprattutto a come dire spingere anche la parte femminile a credere che questo campo è possibile anche come carriera femminile perché come vedete il problema non è qui a CERN non è nei laboratori che noi blocchiamo le eh la presenza femminile ma che veramente non riceviamo l'incavitale dalle università e questo perché probabilmente c'è un più basso numero di iscrizioni veramente dal livello delle scuole superiori quindi mi dirigo dalla sala posta vale la pena ricordare che il direttore generale del CERN è Fabiola Gianotti che oltre a essere donna oltretutto è anche italiana quindi questo ci riempie di grande orgoglio e tra l'altro sta già al suo secondo mandato il ruolo dura cinque anni è stato rinnovato mi pare un paio d'anni fa o forse l'anno scorso e quindi insomma è sicuramente una cosa di cui dobbiamo andare fieri e chiaramente dimostra il fatto che eh non è che ci fosse bisogno di ricordarlo ma che chiaramente le donne hanno un potenziale enorme adesso io non vorrei iniziarla maschi contro femmine però si sa che risultati a scuola mediamente sono migliori quelli delle ragazze che dei ragazzi poi misteriosamente quando si entra nel campo in quando si va agli superiori le donne spariscono chiaramente anche una questione di politica abbiamo perso di nuovo il collegamento sembra il TG di mentale no maybe we can we can ask somebody to go there they are allowed just to show how big is the experiment I don't know ok yes Zoltan diceva che non lo raccomanda non possiamo non possiamo entrare però forse vediamo un po' proviamo a fare questo giochetto allora la foto che vedete è una foto a grandezza naturale dell'esperimento perché questa è la è l'angar dove l'esperimento è stato costruito ora guardate le persone non so se riuscite a vedere questa persona qua si la vediamo la vedete e guardate rispetto all'esperimento totale questo è un palazzo di cinque piani ora io non posso purtroppo entrare ma diciamo che se riuscite a individuare la barriera verde che c'è qua sotto io probabilmente arriverebbe alle mie spalle e tenete qua quindi praticamente mi rimane la testa io sono un metro e sessanta più o meno un metro e sessanta due quindi vedete vedete l'immagine questo è quello che avremmo visto da dentro quindi diciamo che questo è per mostrare che insomma adesso vi mostro un attimo anche la sala come vedete c'è un altro carroponte qua e questo è esattamente l'angar come vedete dove è stato assemblato l'esperimento cioè entrava tutto qua dentro ok in questo grande capannone fino in alto di larghezza fino a questa porta da qui fino al fondo i famosi come dicevo diciamo 25 metri penso che posso tornare da voi vi guazzate ok facciamo un giro da fuori facciamo un giro da fuori così mostriamo che in realtà non siamo soltanto chiusi in palazzi quindi veniamo da fuori e tu se vuoi puoi commentare magari mettere quante slide che si vede queste montagne che vedete sullo sfondo sono la catena del giura una catena non molto alta posso dirlo giura dividit è bello gallico forza ragazzi l'avrete studiato ci sono saranno dello scientifico non lo so scientifico classico cosa sono i nostri ragazzi questo è il giura quello che che Giulio Cesare descrive come confine tra il territorio dei galli e il territorio degli elvezzi il confine adesso è spostato ma questo è il giura io quando l'ho visto mi sono diciamo avuto una certa emozione mettiamola così tra l'altro quando si scavava per il sito di CMS è stata ritrovata una villa romana esatto in ottime condizioni devo dire come accade tipicamente una curiosità sì è vero è vero non so poi cosa hanno fatto l'hanno ricoperta l'hanno spostata perché chiaramente CMS non ce lo so dire dovremmo informarci se fosse accaduto come a Roma che come si scava si trova una villa e si sospendono i lavori della metropolitana sarebbe stato un gran problema eccoci eccovi ritornati abbiamo fatto questo giro del labirinto ecco Sonia che è tornata a rivedere le stelle aspettate che tolgo la connessione allora direi che è andato tutto bene ah una cosa che ecco non abbiamo detto quando stavamo mostrando il grande pozzo dal quale è stato calato CMS che nel momento in cui le ruote di CMS qualcosa come questa qui sono state calate sotto in quel pozzo era uno spazio solamente di 10 cm per lato per far calare l'esperimento quindi immaginate la difficoltà tecnica con delle gru enormi di far scendere questi oggetti pesanti migliaia di tonnellate con pochi centimetri di margine sì questa è una delle cose che di solito quando io vado sotto faccio vedere praticamente metto la mia mano ed è il palmo della mia mano ed è allora le gru venivano dal porto di Genova quindi venivano da casa vostra ragazzi ok dal porto di Genova le classiche gru per le grandi navi eccetera per i container ci sono volute per la parte centrale 12 ore per scendere questo oggetto in questo buco proprio per evitare oscillazioni che altrimenti lo avrebbero distrutto e 8 ore in circa per i pezzi laterali perché sono più leggeri piano piano quello tu stavi dicendo la differenza da Alters e CMS io amo chiamare a me piacciono i paragoni con il cibo allora CMS è un brownie e Atlas è una meringa ok proprio perché Atlas galleggia come dicevi tu CMS va a fondo non so abbiamo domande qualcosa la realizzazione dello strumento vuoi andare tu altrimenti aspetta non ho visto dov'era qui ti ha finanziato diciamo di tutto vai tu perché io ho dei soldi io mi occupo di scienze ah va bene no non ricordo numeri o paragoni ma non ricordo numeri se tu ne sai qualcosa più di me allora il CERN è innanzitutto un ente molto eclettico a cui partecipano davvero tanti istituti innanzitutto tanti paesi mi dimentico sempre il numero esatto ma credo che sia allora no in totale bisogna distinguere tra stati membri e poi stati diciamo associati questo te lo posso dire sono 23 stati membri e gli stati membri finanziano con del denaro direttamente col del denaro quindi dal diciamo dal budget della ricerca scientifica per esempio italiano una piccola percentuale arriva qui e ovviamente viene trasformata in progetti in sostenimento del laboratorio in stipendi in in tante cose poi ci sono altri stati e cioè questi stati membri contribuiscono anche nel per esempio prendersi carico di costruire parte degli esperimenti non so tipo il calorimetro elettromagnetico a Roma o altre cose e poi pagano la gente perché non tutta la gente che lavora con il CERN è assunta dal CERN anzi la maggior parte è assunta da altri istituti università e poi lavora su progetti del CERN poi ci sono altri stati che non contribuiscono direttamente con il denaro ma si prendono carico di costruire parti del rivelatore se fossimo entrati dentro per esempio c'erano dei pezzi del Pakistan non sono entrata nella parte dove c'era quella bella parete tutta quanta di cavi rossi c'era scritto proprietà della Repubblica del Pakistan proprio quindi ciascuno si prende il carico di fare questo e paga gente poi ci sono stati che possono solo pagare gente per lavorare insomma in totale all'incirca un centinaio di nazioni e se sempre se ricordo bene circa un 20.000 persone che a diverso titolo collaborano con il CERN che siano persone assunte dal CERN sono una piccola diciamo frazione del totale che siano studenti ricercatori affiliati a diversi istituti esteri nel caso nostro italiano ad esempio abbiamo l'istituto nazionale di fisica nucleare che ha poi le sue varie sedi in diverse università e a questo poi si aggiungono anche altri elementi del personale non necessariamente di fisici parliamo di ingegneri tecnici informatici anche chimici matematici e ingegneri poi di ogni tipo dall'ingegnere spaziale perché ce ne sono perché poi alla fine uno studia criogenia per esempio facendo ingegnere spaziale quindi abbiamo bisogno di ingegnere di criogenia ingegnere civile esattamente nonché anche personale che se vogliamo viene un po' da diciamo studi di carattere più umanistico ad esempio qui abbiamo il dipartimento delle risorse umane più altre persone che in qualche modo collaborano a mantenere attiva la vita degli esperimenti ma diciamo anche del personale che mantiene ovviamente la parte amministrativa a parte che poi al CERN in generale abbiamo anche come diceva abbiamo i compieri abbiamo i medici perché abbiamo il dipartimento medico abbiamo un piccolo gruppo di avvocati perché ci servono anche quelli insomma abbiamo tutta una serie abbiamo come si chiama l'asilo per i figli dei dipendenzi insomma abbiamo varie strutture però effettivamente è una piccola città in CERN tornando tornando a quelli che sono le persone che poi lavorano nel settore scientifico quello bisogna dire magari può essere interessanti per i ragazzi che non serve per forza avere una laurea in fisica o in ingegneria cioè si può essere anche un tecnico specializzato molta della gente che abbiamo incontrato la gente che avete visto mettere il materiale dentro non erano né dei fisici né dei fisici con dottorato erano dei tecnici dei tecnici sopraffini che spesso sanno fare il loro lavoro meglio di noi fisici e noi apprendiamo sicuramente io ho ho imparato da un tecnico dell'Università di Ginevra dell'Università di Ginevra come fare molte cose sui simici che è il mio campo quindi effettivamente cioè però bisogna fare un percorso che è più breve come studio è molto molto specializzato e si lavora in questo campo quindi chi non avesse l'idea di fare un percorso accademico può sempre come dire ritagliarsi un'altra figura e continuare un'altra un'altra tragitto diciamo così un'altra carriera e continuare però sperare di poter lavorare qui se è interessato questo è chiaro oltre al fatto da ricordare questo è importante che questo è un ambiente in cui convergono persone provenienti come dicevamo in parte per via degli istituti che partecipano ma in generale davvero da ogni parte del mondo abbiamo gente che magari a casa loro non si può vedere non direttamente loro che lavorano qui ma diciamo a livello di stati e di politica magari ci sono diverse ma chissane India tanto per dirne una abbiamo tanti esempi però qui lavoriamo tutti insieme chiaramente diciamo siamo tutte persone che poi si conoscono collaborano insieme e quindi chiaramente questi aspetti politici li lasciamo un po' a casa in questo senso forse sì siamo un po' fuori questo forse è l'unica cosa che io direi veramente perché molti ci considerano di fuori dalla vita reale dicono che abbiamo la testa tra le nuvole questo non è affatto vero l'impatto di tutte queste ricerche forse soltanto se pensate al campo ecco nel campo medico voi siete vicino a Pavia c'è tutta la parte della fisica medica è importantissimo e però comunque diciamo così questo impatto quindi è reale ma quello che diciamo così è fuori dal mondo è che noi lavoriamo senza pensare a quelle che sono problematiche politiche religiose e di stesse tipo di discriminazione si lavora per il progetto questo è fuori dal mondo credo che dobbiamo chiudere la connessione mi pare di capire se c'è qualche altra domanda altrimenti volendo non so io e Marco rimaniamo anche aperti a rispondere a domande di e-mail non so se possiamo dare il nostro e-mail eventualmente ci potete rintracciare attraverso l'organizzatrice Federica eventualmente quindi siamo sempre sempre felici se avete altre domande curiosità a volte le domande vengono dopo se avete altre domande rispondiamo ben volentieri adesso altrimenti magari ci potete portare successivamente attraverso i professori attraverso Federica che è il loro contatto qualcuno conosce anche me penso ci siamo incontrati eventualmente potrete anche poi venirci a trovare adesso credo che per le visite in sito sia un po' ancora problematico per via delle restrizioni dei viaggi oltre che anche la difficoltà magari della permanenza qui però in generale forse lo sapevate il CERN organizzava e tendenzialmente organizzerebbe tuttora visite sul sito ed è una cosa che veramente se avrete la possibilità vi invito a fare perché oggi forse siamo riusciti magari a darvi un'idea di quello che c'era nel sito sperimentale magari anche un po' quello che accade qui intorno ma la cosa veramente interessante è proprio venire qui vedere cosa succede vedere che non è in un certo senso una sorta di base di Star Trek dove lavorano persone misteriose anche se sono una fan di Star Trek è un luogo di lavoro molto particolare sicuramente una prospettiva di carriera una prospettiva di carriera sicuramente con diverse applicazioni che poi possono diventare il fisico che si dedica al campo medico il fisico che si dedica al clima adesso abbiamo il Global War che è qualcosa un hot topics come si dice il fisico che fa la fisica delle particelle il fisico che va a fare la fisica nello spazio sia con astroparticelle che con astrofisica il fisico che si dedica all'arte all'archeologia perché anche quelle sono applicazioni insomma e alla medicina esatto e al campo medico sì e quindi non lo so cosa facciamo chiedo ai professori ci sono altre domande oppure possiamo chiuderla qui non si sente nulla quindi non sappiamo se ci state rispondendo penso che il silenzio indichi che possiamo chiudere chi tacee consente si dice in Italia in ogni caso noi rimarremo disponibili per qualunque altro eventualmente proseguimento non esitate a scriverci e abbiate solo pazienza perché a volte non facciamo solo questa cosa ma lavoriamo anche quindi certe volte la mandiamo un po' così però risponderemo pronti io vi saluto da parte mia vi salutiamo tutti da qui abbiamo Zoltan che vi salutano Emi anche io e Marco vi salutiamo grazie di averci seguito e speriamo di avervi come dire ecco Emi che vi saluta aperto una prospettiva di carriera a presto ciao a tutti grazie a tutti